Buongiorno a tutti, allora proseguiamo con il racconto dei mondiali, siamo arrivati al 2010 e l'Italia ci va da campione del mondo, quindi niente qualificazioni, ci andiamo direttamente, quindi non stiamo a pettinare le bambole come si suol dire, andiamo subito a vedere quali squadre parteciparono al mondiale 2010, il Sudafrica paese ospitante, quindi il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, sempre questi paesi bassi, e l'Olanda non sono i paesi bassi che palle, la Corea del Nord, il Brasile, il Ghana, l'Inghilterra, la Spagna, il Paraguay, la Costa d'Avorio, la Germania, la Danimarca, la Serbia senza Montenegro, solo la Serbia, sapete che prima c'era Serbia e Montenegro, adesso c'è solo la Serbia, quindi Serbia e Montenegro si sono divise anche loro. L'Italia, il Cile, gli Stati Uniti, il Mexico, la Svizzera, la Slovacchia, l'Argentina, l'Honduras, la Nuova Zelanda, la Nigeria, il Camerun, l'Algeria, la Francia, il Portogallo, la Grecia, la Slovenia e l'Uruguay. Vediamo come sono state poi divise... no, non me lo mettono, non me lo mettono, non me lo mettono per il sorteggione, non me le hanno messe. Va bene, allora andiamo direttamente a vedere i gruppetti, partendo dal gruppo A, gruppo A che comprende Sudafrica, Uruguay, Messico e Francia. Siamo nel 2010 in Sudafrica. Nel gruppo B troviamo Grecia, Argentina, Corea del Sud e Nigeria. Nel gruppo C troviamo la Slovenia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra e l'Algeria. Nel gruppo D troviamo Australia, Germania, Gala e Serbia. Nel gruppo E, Danimarca, Paesi Bassi, Paesi Bassi, con questi Paesi Bassi, è l'Olanda, uffa. Danimarca, Olanda, Giappone e Camerun. Nel gruppo F, eccola qua, la Nuova Zelanda, Paraguay, la Slovacchia, l'Italia. E concludiamo con il gruppo... no, c'è anche l'H, quindi ce ne sono ancora due. Gruppo G, come mi ha ogato, Costa d'Avorio, Brasile, Portogallo e Corea del Nord. E infine, gruppo H, Svizzera, Spagna, Cile e Honduras. Iniziamo subito a vedere come è andato il gruppo A. A, 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 Achi. Quello che comprendeva Sudafrica, Paese ospitante, Uruguay, Messico e Francia. Nella prima gara, o meglio, nella prima giornata, Sudafrica e Messico fanno una 1, Uruguay e Francia fanno un 0 a 0. Nella seconda giornata l'Uruguay batte 3 a 0 il Sudafrica e il Messico clamorosamente batte 2 a 0 la Francia finalista all'ultimo mondiale. Nell'ultima giornata l'Uruguay batte 1 a 0 il Messico, è incredibile ma vero la Francia, viene battuta 2 a 1 dalla squadra di casa dal Sudafrica 2 a 1 e i francesi vice campioni del mondo sono già a casa. Quindi la classifica finale vede l'Uruguay con 7 punti, il Messico con 4 punti, il Sudafrica anche lui con 4 punti e la Francia con 1. Il Messico avendo una differenza reti migliore del Sudafrica, anche perché loro due avevano pareggiato 1 a 1 quindi non potevi guardare lo scontro diretto, devi guardare la differenza reti. La differenza reti dice Messico 3 gol fatti 2 subiti, Sudafrica 3 gol fatti 5 subiti, il Sudafrica paese ospitante va già a casa, passano Uruguay e Messico. La dimostrazione, perché sentivo, attenzione perché la prima partita quattare Ecuador, pare che i quattariotti abbiano pagato l'Equador per perdere eccetera eccetera perché devono andare avanti. Vedete che in Sudafrica non successe quello che successe in Corea, che portarono la Corea fino alla semifinale con arbitraggi scandalosi. Il Sudafrica viene eliminato praticamente subito dal Mondiale dopo il girone di qualificazione per gli ottavi. Andiamo al gruppo B, quello che comprende Grecia, Argentina, Corea del Sud e Nigeria. Nella prima gara la Corea del Sud batte 2 a 0 la Grecia e già questo è un risultato abbastanza sorprendente. È vero che la Grecia negli ultimi anni è andata a weo come noi, però invece la Corea del Sud è sempre più sorprendente, signori, questa Corea inaspettata. Mentre l'Argentina batte 1 a 0 la Nigeria. Nella seconda giornata l'Argentina batte 4 a 1 la Corea, la Grecia si rifà battendo 2 a 1 la Nigeria. Quindi abbiamo una situazione con un'Argentina a 6 punti, la Corea con 3 punti, la Grecia con 3 punti e la Nigeria già eliminata. Quindi la sfida è tra Grecia e Corea del Sud per vedere chi delle due potrà ambire al secondo posto. Il problema è che la Grecia deve giocare con l'Argentina, mentre la Corea del Sud sfida una Nigeria già eliminata. Nella sfida tra Nigeria e Corea del Sud la gara termina 2 a 2, mentre l'Argentina non ha alcuna pietà della Grecia, vince 2 a 0 e la manda a casa. Quindi la Corea del Sud con il pareggio con la Nigeria si garantisce il secondo posto. Infatti anche qui, prima l'Argentina con 9 punti a punteggio pieno, secondo la Corea con 4, Grecia e Nigeria vanno a casa rispettivamente con 3 e 1 punto. Andiamo al gruppo C, che comprende Slovenia, Stati Uniti, Inghilterra e Algeria. Nella prima gara Inghilterra e Stati Uniti decidono di non farsi male, fanno 1 a 1, mentre la Slovenia batte 1 a 0 l'Algeria. Nella seconda gara Slovenia e Stati Uniti pareggiano 2 a 2, mentre l'Inghilterra pareggia 0 a 0 con l'Algeria. Quindi abbiamo una situazione con la Slovenia con 4 punti, Inghilterra con 4 punti, Stati Uniti con 2 punti e l'Algeria con 1 punto solo. Nell'ultima giornata l'Inghilterra batte 1 a 0 la Slovenia, mentre gli Stati Uniti batte 1 a 0 l'Algeria. E con queste due vittorie, Stati Uniti e Inghilterra sorpassano la Slovenia, vanno a braccetto agli ottavi, mentre Slovenia con 4 punti e Algeria con 1 punto vanno a casa perché Stati Uniti e Inghilterra hanno 5 punti. Ma per il fatto che gli Stati Uniti hanno fatto il doppio dei gol dell'Inghilterra, anche se hanno la stessa differenza reti, più 1, gli Stati Uniti sono primi, l'Inghilterra è clamorosamente seconda nel girone. Nel gruppo D, che comprende Australia, Germania, Ghana e Svezia, il Ghana esordisce battendo 1 a 0 la Serbia. Ho detto Serbia, sì. Australia, Germania, Ghana, Serbia. Il Ghana batte 1 a 0 la Serbia, mentre la Germania passeggia sull'Australia 4 a 0. Nella seconda gara la Serbia batte 1 a 0 la Germania, mentre gara e Australia pareggiano 1 a 1. Quindi a una giornata dalla fine troviamo il Ghana con 4 punti. Serbia e Germania a pari merito con 3 punti. E ahimè, l'Australia è già a casa perché ha perso tutte e due le partite. Nell'ultima sfida, Ghana e Australia pareggiano. Nell'ultima sfida, Ghana perde 1 a 0 con la Germania, mentre invece, incredibile ma vero, l'Australia batte 2 a 1 la Serbia e quindi riapre completamente la situazione. perché la Germania ha 6 punti e quindi è prima del girone, il Ghana con il pareggio va a 4 punti, l'Australia anche lei ha 4 punti e la Serbia con 3 punti è sicura di andare a casa. Ghana e Australia sono a pari merito con 4 punti, ma il Ghana a differenza reti 0. L'Australia purtroppo per la battuta per 4 a 0 della Germania nei suoi confronti ha una differenza di reti di meno 3 e quindi l'Australia, nonostante la bella vittoria sulla Serbia, inutile perché vanno a casa tutte e due, se ne va a casa, però esce a testa altissima dal mondiale. Andiamo al gruppo 3, quello che comprende Danimarca, Olanda, Giappone e Camerun. Nella prima gara, nella prima giornata, l'Olanda batte 2 a 0 la Danimarca e il Giappone batte 1 a 0 il Camerun. Quindi Giappone e Olanda sono prime dopo la prima giornata a punteggio pieno. Si sfidano nella seconda giornata e l'Olanda batte 1 a 0 il Giappone, mentre la Danimarca batte 2 a 1 il Camerun e si rilancia, eliminando definitivamente sin dalla seconda giornata il povero Camerun, che appunto con questa sconfitta a 0 non può più fare granché. Nell'ultima giornata il Giappone batte 3 a 1 la Danimarca, mentre l'Olanda batte 2 a 1 il Camerun, vincente praticamente il girone. Quindi abbiamo Olanda con 9 punti, Giappone con 6, Danimarca a casa con 3 e Camerun a 0. Questo Giappone, forse ha Olli e Benji in campo, chi lo sa, perché questo Giappone che si qualifica per gli ottavi è tanta roba. Andiamo al gruppo F, quello dell'Italia. Nel gruppo F troviamo Nuova Zelanda, Paraguay, Slovacchia e Italia. Nella prima gara l'Italia pareggia 1 a 1 con il Paraguay, e anche Nuova Zelanda e Slovacchia pareggiano 1 a 1. Nella seconda gara il Paraguay batte 2 a 0 la Slovacchia, l'Italia pareggia 1 a 1 anche con la Nuova Zelanda. Quindi alla seconda giornata troviamo il Paraguay con 4 punti, la Nuova Zelanda con 1 punto e l'Italia con 2 punti. Quindi nell'ultima sfida con la Slovacchia, teoricamente potrebbe bastare anche il pareggio per l'Italia, perché comunque la Slovacchia ha un punto solo, la Nuova Zelanda ha un punto solo. Quindi l'Italia ha 2, dipende cosa fa la Nuova Zelanda con il Paraguay, però per stare davanti alla Slovacchia basterebbe il pareggio. Purtroppo l'Italia perde 3 a 2, prova a rimontare ma non ci riesce, perde 3 a 2, e quindi l'Italia viene bestamente eliminata dalla Slovacchia, dal mondiale, l'Italia campione del mondo, mentre Paraguay e Nuova Zelanda fanno 0 a 0, ed è un pareggio che serve al Paraguay, ma non serve a nulla alla Nuova Zelanda, se non di relegare all'ultimo posto l'Italia. Infatti passa al Paraguay con 5 punti, la Slovacchia è seconda con 4, Nuova Zelanda 3, Italia bestamente ultima con 2 punti. Quindi le due finaliste del mondiale del 2006 sono già a casa, tra l'altro arrivando anche ultime entrambe nel girone. la Francia nel girone, adesso ve lo dico, del gruppo A, l'Italia nel gruppo F. Ma andiamo a vedere gli altri due gruppi, il G e l'H, perché nel gruppo G, che comprendeva Costa d'Avorio, Brasile, Portogallo e Corea del Nord, vediamo com'è andata. Nella prima gara Costa d'Avorio e Portogallo pareggiano 0 a 0, il Brasile invece batte 2 a 1, la Corea del Nord, quindi ci sono tutte e due le Coree, Corea del Nord e Corea del Sud, ma l'Italia è già a casa, quindi non possono più fare danni. Nella seconda giornata, il Brasile batte 3 a 1 la Costa d'Avorio, mentre il Portogallo batte addirittura 7 a 0 la Corea del Nord. Segliano un po' tutti, è l'unico che fa la doppietta, è Tiago, poi per il resto segna un gollo con cinque giocatori diversi. E quindi dopo due giornate troviamo il Portogallo con 4 punti, il Brasile con 6, la Costa d'Avorio con 1 e la Corea del Nord a 0, quindi Corea del Nord già eliminata, praticamente, e Costa d'Avorio che con un punto potrebbe ancora raggiungere il Portogallo, ma il Portogallo c'è una differenza reti troppo superiore, cioè la Costa d'Avorio potrebbe fare partitone contro la Corea del Nord a recuperare un po' di gol, ma dovrebbe vincere praticamente 8 a 9 a 0, quindi direi che LCS, e sperare soprattutto che il Brasile batta il Portogallo. Invece Portogallo e il Brasile fanno uno 0 a 0 inutile, cioè l'inutile, va benissimo per loro, però gli spettatori non penso si siano divertiti. La Costa d'Avorio batte la Corea del Nord, ma la batte solo 3 a 0, quindi Costa d'Avorio e Corea del Nord vanno a casa, perché il Brasile con 7 punti, primo e Portogallo con 5, vanno agli ottavi di finale, Costa d'Avorio con 4, Corea del Nord a 0 vanno a casa. Concludiamo col gruppo H, quello con Svizzera, Spagna, Cile e Honduras. Vediamo com'è a DOB. L'Honduras nella prima gara contro il Cile perde 1 a 0, mentre il credibile Mavero la Svizzera batte la Spagna 1 a 0, quindi Svizzera e Cile primi del girone dopo la prima giornata. Nella seconda giornata la sfida tra Cile e Svizzera vede la vittoria del Cile 1 a 0 sulla Svizzera, mentre la Spagna batte 2 a 0 l'Honduras. Quindi Cile 6 punti, bella tranquilla, bella fresca. Spagna 3 punti, Svizzera 3 punti. Si va all'ultima giornata. Nell'ultima giornata la Spagna batte 2 a 1 il Cile, la Svizzera però non va oltre lo 0 a 0 con l'Honduras, quindi Svizzera e Honduras se ne vanno a Casina e la Spagna a braccetto col Cile se ne va agli ottavi di finale. Tra l'altro la Spagna vince anche il girone per la miglior differenza reti, poi eventualmente avrebbe avuto anche lo scontro diretto a favore, quindi Spagna prima con 6 punti, Cile secondo con 6 punti, ma differenza reti di più 1 contro i più 2 della Spagna, Svizzera 4 e Honduras 1 vanno a casa. Quindi le squadre che si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale del 2010 sono Uruguay e Mexico, Argentina e Corea del Sud, Stati Uniti e Inghilterra, Germania e Ghana, Olanda e Giappone, Paraguay e Slovacchia, Brasile e Portogallo, Spagna e Cile, non c'è l'Italia, non c'è la Francia. Andiamo a vedere come sono andati gli ottavi di finale, partendo subito, non ve li dico, ma li dico un po' volta per volta, stavolta sono malefico. La prima sfida è tra Uruguay e Corea del Sud e vede la vittoria degli uruguayani per 2 a 1. La seconda sfida è tra Ghana e Stati Uniti e vincono gli africani sempre per 2 a 1. La terza sfida è tra Germania e Inghilterra è l'ennesima rivincita del Mondiale del 66 e la Germania disintegra letteralmente la squadra inglese, vincendo addirittura 4 a 1. Anche se alla fine del primo tempo il punteggio era solo di 2 a 1 per la Germania, perché la Germania era andata sul 2 a 0, poi aveva accrociato le distanze l'Inghilterra, se non sbaglio. Sì, l'avevo visto giusto. Poi però nel secondo tempo altri due gol della Germania e l'Inghilterra se ne torna a casa con le pive nel sacco, come al solito, con quattro pampere nel gruppone. E niente, gli inventori del calcio dopo il 66 col golletto, gol no gol, basta, basta. Non ce la fanno, non gliela fanno. Proseguiamo, perché poi c'è stata Argentina-Messico 3 a 1, non c'è stata gara praticamente. C'è stata più gara sicuramente, ma insomma, fino a un certo punto tra Olanda e Slovacchia, perché l'Olanda va sul 2 a 0, poi la Slovacchia su un calcio di rigore proprio nei minuti di recupero, accorcia le distanze e segna il gol della bandiera, ma Olanda che avanza anche lei per i quarti. Il Brasile batte 3 a 0 il Cile, più equilibrata la partita tra Paraguay e Giappone. 0 a 0 dopo i tempi regolamentari, 0 a 0 dopo i tempi supplementari, si va ai calci di rigore, il Paraguay non ne sbaglia 1, il Giappone sbaglia con Comano, il terzo rigore, avendo iniziato prima il Paraguay, finisce 5 a 3, non c'è bisogno che il Giappone tiri il quinto rigore. E quindi Paraguay ai quarti di finale, Paraguay è sempre squadra che è difficile da battere, ti porta sempre ai supplementari rigori, perché difesa arciglia, come si suol dire. nella sfida tutta europea tra Spagna e Portogallo, alla meglio la Spagna è che manda a casa il Portogallo, e quindi abbiamo le nostre 4, 8 squadre che vanno agli ottavi, l'Uruguay, il Ghana, la Germania, l'Argentina, l'Olanda, il Brasile, il Paraguay e la Spagna, e la Spagna, e la Spagna. Prima sfida, Olanda, Brasile, e, signori miei, incredibile ma vero, l'Olanda vince 2 a 1 contro il Brasile, ed è in semifinale. I sudamericani sono a casa, ed è incredibile questa cosa, perché di solito quando non si gioca in Europa, le squadre del Sudamerica spesso e volentieri arrivano, non dico fine in fondo, ma quasi, invece stavolta l'Olanda ha eliminato il Brasile. Uruguay e Ghana pareggiano 1 a 1 dopo i tempi regolamentari, si va ai supplementari, si resta 1 a 1, calci di rigore anche qua. L'Uruguay sbaglia al quarto rigore con Pereira, il Ghana sbaglia al terzo e al quarto rigore, con Bensà, e, vabbè, non ve lo dico, evitiamo, va, fa niente, dai, fa niente, non diciamo chi l'ha sbagliato, lasciamolo nel, comunque finisce 4 a 2 per l'Uruguay, anche lì l'Uruguay è iniziato prima alla sequenza dei rigori, quindi non c'è bisogno di tirare il quinto rigore per il Ghana, perché male che vada sarebbe finita 4 a 3, ed un 4 a 2, non cambiava niente, e quindi passa l'Uruguay, infine, incredibile, ma vero, dopo che, dopo aver battuto 4 a 1 l'Inghilterra, la Germania batte 4 a 0 anche l'Argentina nel primo, nel suo quarto di finale, questa Germania è inarrestabile, signori, infine, la Spagna batte 1 a 0 il Paraguay, che vi dicevo, attenzione a questo Paraguay che è tosto, è tosto, e infatti la Spagna con gran fatica, con un gol all'83esimo, vince 1 a 0 e manda a casa il Paraguay. Quindi, le quattro semifinaliste sono Spagna, Germania, Uruguay e Olanda. La prima sfida è tra l'Uruguay e l'Olanda e viene vinta 3 a 2 dall'Olanda, che comunque si era già portata sul 3 a 1, quindi il gol che è arrivato all'ultimo, al novantesimo, più 2, è giusto, giusto, per dare quelle piccole chance all'Uruguay negli ultimi minuti di recuperare la partita, ma non ce la fanno. Mentre invece l'altra semifinale vede clamorosamente la Spagna battere la Germania che sembrava inarrestabile dopo aver battuto 4 a 0 4 a 1 l'Inghilterra. 4 a 0 l'Argentina, 1 dice la Germania va secca in finale. E invece ci va la Spagna che vince 1 a 0 grazie al gol di Puyol e quindi la finale del Mondiale del 2010 vedrà affrontarsi due squadre europee. Cosa che diciamo che è strana, è strana perché di solito ripeto se si gioca in Europa la finale spesso tra due squadre europee o tra la squadra europea e la sudamericana è difficile. Viceversa quando non si gioca in Europa di solito in finale ci va sempre almeno una squadra sudamericana e invece in finale ci va una squadra sudamericana ma per il terzo e quarto posto che è l'uruguai che sfida la Germania e come capita spesso nelle finali per il terzo e quarto posto proprio perché le squadre giocano con la mente libera per divertirsi e basta vince la Germania 3 a 2 e quindi è bella partita al pubblico che si diverte eccetera eccetera discorso diverso per Olanda Spagna l'Olanda come al solito sbaglia l'impossibile Schneider regala due assist ai suoi compagni per segnare ma ahimè il portiere della Spagna li neutralizza sempre sbagliano loro mettete quello che volete si va ai tempi supplementari dopo che i 90 minuti sono terminati 0 a 0 e al 116 Iniesta regala alla Spagna la finale mondiale Spagna Olanda 1 a 0 l'Olanda perde la terza partita la terza finale dopo quella del 74 e quella del 78 e anche nel 2010 fanno la stessa fine anche lì occasioni buttate occasioni che potevano essere gol che non lo sono stati e la Spagna Maramalda sordiona con i diesta a 4 minuti dai calci di rigore vince il mondiale e beffa nuovamente gli olandesi sono sfortunati meno male ha vinto un europeo nell'88 meno male meno quello vediamo la classifica marcatori anche in questo mondiale gol se li segnalo se li segnalo ma i marcatori sono dopo gli otto gol di Ronaldo nel 2002 si torna a segnare poco 5 reti in 4 4 giocatori che hanno vinto la classifica carbonieri in questo mondiale con 5 gol solo 5 gol Miller Thomas Müller non Gerbuller ormai Gerbuller ai match ha lasciato anche lui David Villa Wesley Snyder e Diego Forland questi sono i 4 giocatori che hanno vinto la classifica marcatori nel mondiale 2010 adesso fatevi controllare Gerbuller che non abbia detto una sciocchezza ma tevo che ahimè ci ha lasciato da poco sì nel 2006 il 15 agosto del 2021 purtroppo grande centravante era un pippo i zaghi più forte ecco per intenderci bene ragazzoli vi ho raguagliato e beh sul mondiale del 2010 siamo proprio al limite 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 pensavo di essere stato più veloce invece ahimè sono stato prolisso anche stavolta quindi vi saluto subito vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie.